Ecco lì, carri tu come vivere mia mamma. Anna, 12 secondi. Mi sa che nessuno ti fai. E che piangi? E andiamo anche con il senza il countdown, ma si farà 5 essi. 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 5, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! Questa è un'altra, siamo qua. Siamo i ragazzi. Siamo i ragazzi, siamo i ragazzi. Andi, 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 andi. Andiamo! Andiamo! Ecco il Gio va con noi! Paolo, va bene se si fa un bagnetto là? Grazie! Andi, 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 andi! a cadere la balla dai 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 ti è svegliato via ha avuto un momento di cedimento di mancare sangue al cervello hai ripartito col video dai 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 come si sente dai 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 bravo ragazzi andiamo andiamo oh grazie Giovanni andiamo andiamo dai dai ragazzi grande organizzazione viva Firenze andiamo dai bravo non ho scelto la tua voce bravo 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info